Ed eccoci qui a parlare di questa apertura del teatro San Carlo, di questa tour and hot, di cui francamente io non avevo programmato di fare una recensione. Poi dopo le tante migliaia di visualizzazioni che ho avuto il video sulla recensione dell'apertura della scala e le tante richieste che avete fatto, ho dovuto soccombere e decidermi a fare questo video, insomma per cui prima di tutto mi sono guardato l'opera un paio di volte e oggi vi dico cosa ne penso. Allora partiamo da un concetto, l'opera lirica è una forma teatrale che si basa sulla musica. Ora perché vi svelo questo segreto a cui sicuramente non avete mai fatto caso? Perché quando dopo un'opera, dopo un'esecuzione di un'opera lirica si parla più della regia che della musica, vuol dire che la musica non ha svolto esattamente il ruolo principale che dovrebbe svolgere, che è chiamata a svolgere. E siccome questa colpa non la possiamo certo dare a Giacomo Puccini, perché Turandotte è un'opera di una bellezza e di una qualità compositiva stratosferica, io dico sempre che Tosca è la mia opera preferita del Novecento, ma insomma per tanti aspetti Turandotte l'è anche superiore. E quindi quando non possiamo dar colpa al compositore, vuol dire che qualcosa negli esecutori non ha funzionato come doveva funzionare, altrimenti staremmo qui a parlare più delle arie, dei concertati, del coro che non della regia. E invece devo dire che mi è sembrata una Turandotte più di quantità che di qualità. Cioè al netto di Rosa Feola, che è veramente una voce molto bella, che mi piace molto, non abbiamo sentito delle belle voci, abbiamo sentito delle grandi voci, nel senso fondamentali insomma per quest'opera, comunque delle voci con una quantità di decibel importanti, voci strutturate, che è al netto di qualche cosa di intonazione e di diverse scelte interpretative che potrebbero essere considerate quantomeno opinabili, hanno fatto il loro lavoro. Però chi come me ha bazzicato per tanti anni i teatri dell'Europa dell'Est sa qual era e qual è, oggi un po' meno, un po' di anni fa era più conclamata, la realtà dei teatri stabili d'opera. dove ci sono questi cantanti che cantano ogni mese 20, 22, 23 recite di opera spaziando da Mozart a Puccini. E ovviamente tutti sapete che questa cosa non si può fare, nel senso, no, si può fare, si può fare, si fa, la fanno. Però ovviamente non si può fare se teniamo la qualità e la giustezza delle voci come faro della scelta di un cantante. Invece i cantanti sono stipendiati al teatro e quindi insomma al teatro in tutte le occasioni in cui li può occupare li occupa. Che debbano cantare, ripeto, un'opera giugnale di Mozart o un Wagner o un Puccini, quindi il cantante è quello. Ma lo sai che sono cantanti tecnicamente bravi, anche perché sennò morirebbero al tredicesimo giorno consecutivo di recita che fanno. Sono, diciamo così, dei trattori, no? Quindi che macinano, macinano, macinano tanto terreno, arano un sacco di terreno e ovviamente, insomma, ma raramente si sentono voci di qualità vocali dove veramente possono venire fuori tutti i refoli dell'inespresso che ci sono spesso in tante partiture, in particolare di Puccini, ma non solo di Puccini. Quindi, come dire, io l'impressione che ho avuto, ripeto, al netto di Rosa Feola, anche Pang non era male, devo dire, è di questo genere di voci, cioè di voci a posto, ovviamente, altrimenti un'opera del genere non la regge, muori molto prima, che però, insomma, macinano molti più chilometri che non qualità, ecco. E quindi poi al netto del fatto che la parte in particolare di Turandotte è scritta in una maniera molto discutibile, nel senso, a parte che forse è la protagonista della storia dell'opera che canta di meno, perché arrivano al secondo atto e alla fin fine, cioè, credo che canti la metà di quello che canta Calaf, ad esempio. Ma al netto di questo è una parte abbastanza ingrata per la cantante, perché deve avere comunque una voce, deve essere comunque una voce di grande corpo, anche e soprattutto nella prima ottava, e poi deve avere ovviamente la facilità di Acuti. E però questa scrittura che, per certi versi, io non mi spiego da parte di un compositore come Puccini, che aveva con la sua, insomma, capacità lirica geniale, questa parte poi si risolve, in questo caso non per colpa della cantante, ma proprio per come è scritta, spesso in un ruolo urlato, e basta, insomma. E quindi, non per volere, come dire, snobilitare nessuno, ma l'impressione che ho avuto è che sia Iva Zoff che la Rodovanovski abbiano un po' questa impostazione, due voci solide di professionisti oltretutto molto affermati, sia lui che lei, insomma, questo non si discute, però mi sembrano voci più di quantità che di qualità. Il direttore ha fatto una lettura onesta dell'opera, l'opera è molto difficile, diciamone, è molto difficile da cantare, da suonare, da dirigere, insomma, è un'opera molto impegnativa per tutti. Chiedo che sia la performance del direttore che quella dell'orchestra sia stata buona, senza particolari... Ecco, diciamo che questa è un'opera in cui si potrebbe lavorare molto di più sul timbro rispetto a quello che è stato fatto, insomma. Invece, insomma, certe cose mi sono sembrate un po' buttate via, anche qualche portamento un po' ruffiano e forse discutibile, insomma, però, insomma, queste sono scelte personali e non c'è di per sé una cosa giusta, una cosa sbagliata. Diciamo che hanno fatto degnamente il loro lavoro. Idemi il coro fa degnamente il loro lavoro, all'interno, lo ripeto, di quella che è un'opera molto impegnativa, senza eccellere, cioè non ha anche il coro, il San Carlo, non ha la qualità timbrica, la bellezza che ha, per esempio, il coro della Scala. Detto questo, diciamo che cantare con delle maschere o con dei veli davanti, come ho pensato bene di conciare la maggior parte del coro, certo non aiuta l'emissione di una voce pulita e cristallina. Ecco, questo sicuramente non aiuta. Detto questo, anche il coro, comunque, il proprio lavoro l'ha fatto più che degnamente. Piccola nota di demerito per chi ha fatto la ripresa televisiva, in particolare per i microfonisti e soprattutto per i tecnici al mixer, che si sono persi almeno 3-4 cose per strada. E questo, come dire, è una mancanza, cioè un, come dire, ovviamente un imprevisto, un qualunque intralcio, un errore può succedere. Al terzo errore che senti da parte di chi è addetto ad aprire e chiudere i microfoni, ti fa capire che la cosa non è stata preparata in maniera adeguata e che quindi la preparazione non tecnica ma specifica di questo spettacolo non è stata fatta con un'adeguata cura, insomma. Però a fronte di questo, ovviamente, le riprese televisive ci danno la fortuna di vedere questi spettacoli che, ancorché non sia mai, come abbiamo detto anche in un video passato, ovviamente le voci microfonate e che sentiamo comodi in pancioli in televisione non sono uguali alle stesse voci che sentiremo dal vivo, però, insomma, a me no, si dice piuttosto che niente, ma è piuttosto, quindi va bene così. E arriviamo adesso al punto che so che interessa più a tutti voi, cioè la questione della regia. Allora, qui dobbiamo fare un discorso molto serio perché, allora, la stragrande maggioranza, ma anzi, forse la totalità dei commenti che ho letto in questi giorni sono stati di una stroncatura senza appello per la regia, ok? E quindi, in questo senso, mi sarebbe facile seguire la scia, seguire quelli che sono anche i vostri desiderata e dire, ah sì, è una porcata, è una cosa mai vista, è terribile, eccetera, eccetera, così voi siete contenti e a me non costa niente. Io invece vorrei cercare di andare un pochettino più in profondità, cioè, se mi fate domanda secca, la regia ti è piaciuta? La risposta secca è no, ovviamente no. Però vorrei fare con voi un discorso un pochettino più articolato e anche, insomma, per conoscenza di quelle che sono alcune regole di comunicazione più o meno scritte o più o meno non scritte che vivono in questo ambiente. Comincio a dirvi che tutti voi, parlandone male, e io facendo questo video anche, indipendentemente da quello che dirò nel video, stiamo facendo il gioco del regista. Cioè, lo scopo principale di una regia, soprattutto in un teatro importante, in una prima importante, eccetera, eccetera, è sempre stato, ed è a maggior ragione oggi, parlatene male, purché ne parliate. Cioè, non giova alla carriera di un regista fare una regia bella, pulita, magari che nessuno nota, o magari dove si dice, sì, bella regia, ma giustamente ti concentri su altri aspetti che non ho proprio dovrebbero essere un pochettino più in vista. Quindi, non è nell'interesse dei registi, non so se avete visto i miei due video sulle regie ororifiche e dove trovarle, ve li lascio alla fine di questo video in descrizione, vi consiglio, se volete, se ne avete piacere di andare a vedere, così, come dire, lì diciamo che approfondisco meglio la questione del rapporto del regista con l'opera lirica. Per cui, ribadisco, parlandone stiamo facendo il suo gioco, stiamo aumentando la sua fama e stiamo probabilmente aiutandolo a firmare il prossimo contratto per un'altra produzione a qualche altra parte. Ricordatevi che non c'è niente di peggio di un applauso poco convinto, se si vuole manifestare il proprio dissenso verso un artista o un regista o quello che è. Beh, chiaro, se non eravamo presenti avremo difficoltà a manifestare il nostro dissenso se non per iscritto o con i video. Però, insomma, questa è la regola che dovrebbe sempre valere. E infatti, se ascoltate anche, faccio un piccolo passo indietro, se ascoltate anche gli applausi di non stati a Calaf, c'è stato anche qualche dissenso, ecco, giusto per tornare a quello che dicevo prima, perché mediamente il pubblico non lo infinocchi. Ma torniamo alla regia. A domanda secca, ti è piaciuta la regia? La risposta è no. Però vorrei dire un paio di cose a parzialissimo supporto del regista. E cioè, lui cosa ha fatto praticamente? Si è inventato una metastoria. Si è inventato, ha visto che la storia di Turandot è all'interno di una storia che la contiene. Cioè, di questi due, tra l'altro, vi ho sentiti malissimo, all'inizio sembra veramente Gomorra, lei sembra Chanel e lui sembra Gennaro Savastano. Sono in macchina, stanno discutendo di una storia in cui c'è lei, c'è Liu, ma insomma che non ha niente a che fare ovviamente con la storia narrata nell'opera. si parla come le ex fidanzate, ah no, tu non l'hai mia sopportata, quella si è suicidata, se mio padre è morto, insomma c'è il funerale del padre, una serie di cose. Per cui una storia che non c'entra niente con la storia di Turandot. Dopodiché, loro fanno un incidente d'auto, a seguito del quale si finisce praticamente in sala operatoria, quindi da lì parte l'opera, quindi loro sono feriti gravemente, ma non muoiono in questo incidente d'auto, vengono operati, e praticamente, quindi da lì parte l'opera, che è praticamente, se vogliamo, una cosa onirica, un sogno, o se preferite, un qualcosa legato a un'esperienza di premorte, legata a quello che alcune persone dicono, che quando sono sotto anestesia totale le operazioni si vedono, insomma, vedetela voi, comunque diciamo che l'idea di base è questa qua, la storia di Turandot è vista come un qualcosa all'interno di questa mini storia che la contiene, ed è comunque un'idea, non vi voglio dire che non l'abbia mai fatta nessuno, però comunque è un'idea. Tenete poi presente un'altra cosa, che Turandot è una fiaba, fondamentalmente, quindi non è, non ha in questo senso la drammaturgia di una bohème, o di una tosca, ok? È una fiaba, con anche una serie di cose che stanno veramente poco in piedi, dal punto di vista strettamente la trama, magari un giorno ci faremo anche una trama raccontata male, però per la stessa ragione per cui spesso non la faccio per le opere buffe, questa qua, se non una fiaba, presta più facilmente il fianco a questo tipo di critica, e quindi non mi diverto a fare questo tipo di critica. Certo che però, se partiamo da questo concetto, che quindi essendo una fiaba è più soggetta a cose anche un po' strampalate o eccentriche, è chiaro che vederla come un sogno, o come una visione, o come un'esperienza di premorte di questi qua, che nel frattempo stanno operando, come di giustifica tutto, cioè ti piace vincere facile in questo senso, cioè mentre non potremmo fare certe cose appunto nella bohème, perché non avrebbe un senso razionale, ovvero sia certe azioni, immaginate di Mimì che a un certo punto si mette a giocare col cubo di Rubik, spara una cavolata, ecco, non avrebbe nessun senso razionale questa cosa, quindi o la rivedi completamente, o certe azioni a bohème non le puoi far fare. Intorno ad oltre con la fiaba è un po' più facile in questo senso, perché appunto il sogno può giustificare tutto, e anche noi quante volte abbiamo sognato delle cose anche drammatiche, dove ci siamo spaventati, o morivamo, ci seguivano, ci sparavano, e magari all'interno di quel sogno c'era un particolare balzano, non so, c'era uno che ci seguiva con un cappello buffo, cioè può succedere, il sogno va bene tutto e giustifica tutto, e va tutto bene. Quindi questa è l'ambientazione all'interno della quale viene fatta svolgere Turandot. È chiaro che è un'ambientazione che ai puristi non può che destare obrobrio e orrore. Come diceva Mughini, provo orrore, diceva Mughini. È un orrore più che comprensibile e emotivato. Però quello che voglio dirvi, e ripeto, all'interno dell'agia che non mi è piaciuta, è che c'era comunque un'idea. E questa cosa la dobbiamo apprezzare, perché troppo spesso vedo delle regie balorde, che sono balorde e basta. Questa è balorda, non mi è piaciuta, ma quantomeno c'era un'idea sotto, ecco, e questa cosa dovrebbe essere apprezzata. Ma detto questo, c'è un passaggio che, soprattutto i non addetti ai lavori, tendono a sottovalutare, cioè a vedere sotto il termine regia, esclusivamente dove è stata ambientata. Certo, l'ambientazione è una parte importante della regia, ma guardate che dal punto di vista teatrali ci sono delle altre cose molto più importanti. I movimenti, la recitazione, il fare o non fare dei gesti che sono giustificati da quello che sta succedendo sulla scena. E da questo punto di vista questa regia è veramente carente. Io non so se c'entra il fatto che spesso i registi stranieri, non conoscendo l'italiano, ma conoscendo solo la storia, fanno delle cavolate in questo senso, perché non sanno con precisione che cosa il cantante sta cantando. Sa più o meno qual è la storia, qual è la trama, ma non sa quella parola cosa significa, quindi molte volte fanno fare dei cantanti, spesso anche loro stranieri, quindi con lo stesso vulnus linguistico, fanno fare dei movimenti irrazionali. E la cosa più grave, come vi dicevo, è questo aspetto che proprio non mi è piaciuto, perché ha dimostrato una totale superficialità, a meno che certe cose incongruenti siano state fatte con coscienza e allora veramente meriti di essere sotterrato dei fischi del pubblico. Vi faccio alcuni esempi, quando arrivano ping pong e pang e Calaf dice, lasciatemi passare, se io dico la frase lasciatemi passare, quelli là mi devono ostruire il passaggio, mi devono impedire, mi devono venire qua fisicamente, ma se loro sono qua, io sono qua e dico lasciatemi passare, senza che nessuno mi impedisca di passare, capite che questo passaggio è una porcata dal punto di vista regia. Oppure, che so, un'altra cosa, durante la scena della tortura di Liu, un'altra delle cose più brutte che abbia visto in vita mia, Calaf, che prima è tutto disperato per sta povera ragazza e poi se ne sta lì così, che si guarda intorno, cioè, così con le mani, non so se si vede nel video, con le mani concerte, così praticamente, si guarda intorno in un momento così drammatico. Ecco, secondo me quella è sciatteria, cioè, ripeto, non voglio pensare che sia una scelta precisa perché altrimenti loro veramente si sono messi molto male. Temo che sia invece superficialità e sciatteria da parte del regista. Quindi, guardate queste cose più che l'ambientazione, i movimenti scenici, la recitazione, gli sguardi, dove i cantanti sono rivolti, stanno rivolti verso l'interlocutore o sono rivolti dall'altra parte? Cioè, queste sono cose importanti ai punti di vista teatrali, questo proprio è l'ABC della regia teatrale del primo giorno di Accademia. Oppure, durante la scena della tortura e della morte di Liu, dove la povera Rosa Feola, la brava Rosa Feola, è costretta, insomma, a fare dei movimenti assolutamente incongruenti e sbagliati dal punto di vista proprio scenico. Oppure, quando dovrebbero torturarla, non resisto più, non resisto più, e in realtà nessuno l'ha neanche sfiorata. Cioè, questa cosa è ridicola. e non vi dico aiutatemi, aiutatemi, quando lei muore, che si mette in testa sto cestino di vimini, prende una barca al guinzaglio e se ne va via. Va bene, ok, il simbolico, l'onirico, tutto quello che volete, ma è una delle cose veramente più brutte che abbia visto in vita mia ed è un peccato vedere, come dire, una cantante brava, come brava è lei, sottostare a questi abomini, ecco, questi veramente sono degli abomini dal punto di vista teatrale scenico. E che la cosa non funzioni, la vedete la conferma, non quando una cosa tanto non vi piace, quanto vi procura, come è successo nel mio caso, ilarità. Cioè, nel momento più drammatico della morte di Lou è il momento più drammatico dell'opera. Anche pieno di pathos, eccetera, eccetera, se usciamo da quella scena con un sorriso, capite che c'è qualcosa che non va. Cioè, Giacomo, veramente, qui si rivolta nella tomba, eh. Per cui, in conclusione, io vi inviterei la prossima volta che guardate un'opera, soprattutto se avete la fortuna di vedere in televisione, perché molte volte in teatro la distanza non consente di percepire certi dettagli, ancorché faccia ben percepire la totalità, mentre in televisione magari vediamo il primo piano o di quella che sta cantando e non vediamo cosa stanno facendo gli altri, gli altri, se i movimenti scenici sono congruenti o incongruenti. Per cui, comunque, vi invito, vi sollecito a fare questo genere di valutazione, sempre. Quindi, esattamente come uno che ne capisce di calcio guarda non solo chi la palla, ma anche i movimenti che fanno gli altri. Non so perché in questi giorni continuano a fare paragoni col calcio, non so. Per la stessa ragione quando assistete ad un'opera e c'è un cantante che canta non guardate e ascoltate solo e guardate cosa succede intorno, perché la bravura di un regista si vede nello spostamento delle masse corali, quindi nel grande e nel picco e nei dettagli delle citazioni, negli sguardi, nel come fa muovere le mani, nei movimenti che fa fare ai cantanti, cioè lì vedete la bravura o no del regista. Non fermatevi al fatto che hanno ambientato la cosa dentro un'automobile con l'incidente in sala operatoria. Quello veramente non mi sconvolge più di tanto, anche perché credo che ne abbiamo viste di ogni, insomma, quindi nulla di male, a parte la scena in cui Ping Pong e Punk tiano fuori i coriandoli e le molle dal tavolo operatorio, anche quella. Vedete, è una cosa che mi fa ridere e se mi fa ridere non va bene, non deve farmi ridere, non stiamo vedendo il Don Pasquale, quindi non devo ridere per un cacchio in un'opera del genere, devo uscire con l'anima franto per quello che succede, ancorché si tratti di una fiaba che poi finisce un po' tra luce e vino. Ci ho detto, scrivete nei commenti la vostra impressione su questa produzione di Turandot, iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto è arrivato il momento di farlo, perché il 60% delle mie visualizzazioni è fatto da persone che non sono iscritte al canale, quindi vuol dire che là fuori c'è almeno un 60% di pubblico che potrebbe iscriversi al canale e non si è ancora iscritto e questa cosa non va assolutamente bene. Ci vediamo alla prossima!